Siamo stufi di questa storia, da qualche anno è sempre di più, le istituzioni non è che prendono provvedimento. Dopo tutte le spese che abbiamo fatto, questo è il risultato. Danni che superano in alcuni casi anche il 50% del seminato. Non ce la fanno più gli allevatori della regione Abruzzo che da anni ormai tentano in ogni modo di combattere la problematica dei cinghiali. Come si può notare dalle immagini, in questo caso specifico ci troviamo nelle campagne tra Rosciano e Cepagatti, in provincia di Pescara. Gli ungulati hanno dissutto quasi per intero il prossimo raccolto di mais. Noi abbiamo investito 1200 euro a ettaro per mettere il mais e per raccogliere il nostro mais. Adesso questi sono i risultati. Qua qualcosa deve cambiare, non ce la facciamo più. Questa situazione deve cambiare. Oppure dovete dare qualche incentivo ai cacciatori per farli abbattere. Voi li avete messi anni fa, questi cinghiali, e voi dovete trovare la soluzione. Il tempo è scaduto. Una trentina i cinghiali che ogni sera si aggirerebbero per le campagne della zona facendo razzia di tutto. Per questo a sostegno degli agricoltori sono intervenuti i cacciatori che si dicono pronti a dare una mano. Con la caccia di selezione non si risolve il problema, neanche con la caccia notturna. Per risolvere il problema ci vuole la caccia con i cani, la famosa girata, ma bisogna farla sempre, 365 giorni all'anno. Il caro delle materie prime e la seccità di questi mesi rischiano di mettere definitivamente in ginocchio questo comparto. Per questo i risarcimenti ai danni sono l'infa vitale. Vabbè la regione ha messo a disposizione 2 milioni di euro, tu che danno hai subito? Hai subito 10.000 euro di danno? Il 20% ti possiamo dare 2.000 euro. Ma com'è? Se io ho subito un danno di 10.000 euro tu mi dai 10.000 euro!